Siamo nell'ortavo di Pasqua, nel tempo di Pasqua, e pensavo di offrire una riflessione su quello che significa per tutti quanti noi essere nel tempo di Pasqua. La vita cristiana è essenzialmente e inequilibrica, inequivocabilmente, quella realtà che trae l'uncine proprio da un mistero pasquale. E l'incontro con Gesù di una mazzarata, profifisso, morto e risolto per noi, che caratterizza la nostra vita. Chi incontra veramente Gesù risolto non può essere lo stesso in prima. I santi ci testimoniano adesso, iniziando da San Paolo. San Paolo arriva a dire, io sono stato crocefisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita non è agarmi, io la vivo nella fede del figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo ha incontrato il risolto, solite cambiano. E così potremmo dire che questo è stato per tutti. I discepoli di Gesù, gli apostoli, pensiamo anche a Pietro, che aveva rinnovato il maestro. L'incontro a Gesù risolto cambia completamente, è molta persona. E così, potremmo dire, per tanti santi, la storia della salvezza, della storia della Chiesa, che avendo fatto un'esperienza profonda di Gesù risolto, non sono gli stessi. Non sono gli stessi. Siamo Sant'Agostino, San Francesco, Sant'Ignazio di Doloro, ma proprio tutti, come tutti. Allora, evidentemente, questo cambiamento radicale, sostanziale, non è qualcosa come un interruttore. Non è come il cellulare, io lo accendo e lo spegno in pochi secondi. Un interruttore della luce, una frazione secondo, la luce si accende e si spegna. Non è come l'accendino. Premo, la frazione seconda, si accende e si spegna. È un qualcosa che si realizza un po' alla volta. Paolo stesso parla, dice, che lui stesso ha fatto un cammino. In questo cammino è passato da una condizione di bambino a una condizione di adulto. Ma per esempio, quando parla ai coriuti, alla comunità del coriuto, dice, voi siete ancora bambino, voi siete ancora bambini, voi siete ancora cresciti. Così, la valutazione, bisogna passare da uno stato di imperfezione a uno stato di perfezione. Passare da un uomo, lui usa un termine particolare, prevalentemente psichico, cioè in cui prevalgono le sensazioni, le emozioni, a un uomo che ha uno stato spirituale, cioè animato dallo spirito di Dio. Si tratta di passare da una condizione in cui si può essere affascinati dai carismi, che restano curiosità, stupore, meraviglia e entusiasmo, a una condizione nella quale i cristiani si impegnano a vivere nella carità al cui servizio ogni carisma deve essere impegnato. Quindi non è importante il carisma. Ognuno di noi ha un carisma, forse è più carisma. Ogni congregazione ha un carisma. Ma il carisma non è quindi fine. Il fine è vivere nella carità secondo quel carisma. Per fare questo è necessario un rinnovamento profondo, che pone nelle condizioni di discernere quale sia la volontà di Dio. ciò che è l'uomo, a lui credito, è perfetto, direbbe San Paolo con la lettera di Dio. Per attuare quella che è la volontà di Dio. Anche su questo ci deve essere un punto di grazia. La volontà di Dio non è qualcosa di unico per cui io capisco di dire la volontà di Dio. E, come si dice allora, ho fatto biglio. Cioè, adesso ho un pollo, non ho più perplessità, non ho più dubbi. posso andare avanti tranquillo perché ho capito qual è la volontà di Dio. E forse questo sarebbe il nostro desiderio. Ci prendiamo una volta per sempre il pensiero di capire qual è la volontà di Dio, e poi demolisce. Non funziona così con Dio. Ma la volontà di Dio si manifesta un po' alla volta perché noi possiamo essere sempre riaperti all'azione dello Spirito per capire dove il Signore sta portando noi stessi, la nostra comunità, la nostra congregazione, la Chiesa. È una scoperta graduale quella che l'è voluta a Dio. Quindi qualcosa da cercare continuamente. Un grande compito italiano, Dioardo De Filippo, diceva che gli esami non finiscono mai. Ma è vero, perché continuamente ci dobbiamo chiedere ma Dio che vuole da me, che vuole dalla nostra comunità, che vuole dalla nostra congregazione, che vuole dalla Chiesa. Cioè è un continuo di ricerca. In fondo anche il Vangelo di oggi quando dice non essere più individuo ma credente. E lui dice che il senso del credere progressivo, dell'avanzare della fede progressiva, nell'avanzare della scoperta della volontà di Dio. Progressivo. Quindi non è di tutto nulla, ma è un processo. Andando sempre oltre ciò che è rivolto in volto, lo Spirito stesso di Dio ci lascerà comprendere. L'unica cosa certa, ma secondo me, non dobbiamo avere dubbi in nessun tipo, dubbi ne possiamo avere tanti. Ma su questo no. L'unica cosa certa è che si tratta di immergerci sempre di più nell'amore di Dio. Nell'amore della Santissima Trinità, nell'amore del Padre che ha talmente tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Gesù Cristo. E Gesù che ha compreso così tanto questo messaggio di amore del Padre che è arrivato a dare la sua stessa vita per ciascuno di noi. E quello stesso amore che c'è tra il Padre e il Figlio, tra il Figlio e il Padre, che ha posto di un Padre a donare il Figlio e il Figlio della sua vita, è lo stesso identico amore che Gesù vuole che ci sia fra di noi. Il Pag. del Giovanni, nel Testamento Spirituolo, Gesù dice Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. ponendo in se stesso nella comunione di amore che c'è tra lui e il Padre la sua vigente dell'amore che possiamo vivere noi e ponendo in se stesso Gesù l'esempio e il modello. Cioè, se fossimo poi certi di come si ama, guardiamo Gesù come modello, come ha amato Gesù. E se avessimo qualche Bibbio, San Paolo sottolinea che l'amore è stato, l'amore di Dio, è stato riversato nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo tutto che ci è stato dato nella lettera ai domani. Lo dice E noi sappiamo che il giorno dello Spirito Santo ci è dato nella Pasqua. Oggi Gesù soffia e proprio un fare entrare dentro. E' come se quando c'è una persona che sviene, non sappiamo che facciamo una respirazione bocca a bocca. Ecco, Gesù ha fatto così proprio per alimentare nel suo stesso Spirito la nostra vita. Questo dono della Pasqua lo sappiamo che è stato pienamente di Sì per tutti quanti noi giorni del nostro battesimo, il giorno della nostra conferpazione. Ma ogni volta che ci appostiamo i sacramenti non ci vengono lo Spirito, ogni volta che lo invochiamo, la Pentecoste è la pienezza della Pasqua. Allora, il tempo pasquale in quale siamo razzetti adesso è il tempo in cui da una parte incontriamo Gesù risolto in un modo sempre più consapevole nella sua parola nel sacramento dell'Eucharistia nella comunità cristiana che ci viene donata ecco, per esempio un giunto il vaso incontra nella comunità cristiana che non è una cosa sua singola personale nella comunità dall'altra diventa l'informazione del tempo passuale e il tempo in cui invochiamo il dono dello Spirito Santo che è amore. Allora abbiamo anche la possibilità e credo anche l'esigenza di verificare quale efficacia abbia nella nostra vita l'esperienza dell'incontro con il Signore Gesù 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 Cristo che cosa sta cambiando veramente nella nostra vita in controllo Gesù 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 Jesù Cristo sto crescendo nell'amore che Cristo è venuto adorato sto crescendo nell'amore della Chiesa che Gesù è venuto adorato sto crescendo nell'amore i fratelli e le sorelle che il Signore mi sta facendo incontrare mi ha messo accanto nella comunità perché poi viene interrogazione su questo alla fine delle fine ma io sto crescendo nell'amore di Gesù risolto Paolo nella prima lettera dei corinzi, il capitolo 12 alla fine del video 12 e poi il capitolo 13 di quello che conosciamo molto bene come l'inno alla carità ci dà delle indifizioni per capire se sto crescendo nel lavoro il tempo pasquale è il tempo nel quale vedo che tutti quanti noi possiamo fare un esempio di coscienza se stiamo crescendo nel lavoro in base a queste indifizioni che ci dà San Paolo nella prima lettera ai corinzi a questo è il tempo che ci dà è il tempo che ci dà Grazie a tutti. 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 Riconoscere che quello che gli altri dicono, non tutto è sbagliato, delle volte è detto male, è detto pieno di strafaccioli, però anche un'osservazione, forse pure di una persona antipaglia, come persona, c'è il genere del bene, quello che dice c'è il genere del bene, forse è il fatto di cogliere, di mettere davanti. Ho capito che tu mi vuoi dire questa cosa, che mi sembra molto bella e importante, forse fa accadere delle resistenze che facilizzano il confronto, il diaro, la disponibilità. Dice Rosa Francesco di Salles che il signor ha mai avuto di più con un cucchiaio sporco di miele con un barile adiacente, ed è bello. Non è questo un buonismo in gelo, per dire che va tutto bene, no, 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 c'è da dire che molte cose la chiamavano al tetto, ma insieme c'è anche il genere di bene. Questo vuol dire che vuol dire fare un discernimento oggettivo, non secondo la soggettività del proprio istinto, delle proprie emozioni, pregiudizie, esperienze che sanno, ma qui e ora, quello che il signore merita vedere con ogni uomo, quella piccola persona con la situazione. Poi non è invidiosa, cioè cogliere i beni dell'altro nella sua università senza sentirlo come un bene che fa la concorrenza. Allora facciamo il braccio di ferro, dobbiamo correre per primi, per arrivare prima degli altri. Non è colto come qualcosa che fa ombra al mio bene, come pietra di un ciato per quel bene che sto cercando di fare anch'io. Piuttosto viene colto come qualcosa che è un tutto al mio bene, può essere più utile per il bene comune, cioè che il bene comune della comunità, della nostra relazione, della Chiesa, può essere arricchito dal bene dell'altro. Insieme facciamo qualcosa di più bello per la comunità e per la Chiesa. Non città a vuoto. L'amore è concreto. Mi ricordo quando ero giovane, avevo un bravissimo papo, un buonissimo. Quando qualche volta io gli andavo a proporre per fare qualche iniziativa per i ragazzi, per gli adolescenti, mi diceva, no, no, ho pensato adesso, no, ho pensato adesso, no, ho pensato adesso, no. Poi a un certo punto, secondo me, si sente, adesso è più che dirlo, fallo. Cioè non si gira a vuoto l'amore, si realizza, si opera, si fa, no? Non chi dice, signore, signore, ma chi fa la volontà del Padre Mio, come anche capitolo di Matteo, giudizio universale, ogni volta che lo avete fatto a me, ogni volta che lo avete fatto a me, chi fa a me, conta. Poi non si gonfia, alcune volte non ce le dobbiamo nascondere, è più forte di noi, è un po' istintivo e ci buttiamo avanti per dire che quella cosa l'abbiamo fatta a noi. Ti è piaciuto l'avessere fatta io? L'accio istintivo. Forse rimanere un po' indietro, non ci fa male. Anzi, io vedo che tante volte è una gioia più profonda, piuttosto come le mie spose di l'ho fatta, l'ho fatta io, è una gioia profonda, vedere che il bene si fa strada senza che io mi faccia strada. Il bene va avanti e procede. Anche indipendentemente dal fatto che io ho fatto una cosa l'ho fatto io. non è bello vedere il bene silenzioso. Molte persone fanno del bene, tante di voi ho fatto attenzione. non è stato il bene, senza che nessuno lo sappia. Delle volte mettere avanti l'ho fatto io. Oppure, questo mi capita, che aveva molto di sentire in alcune associazioni o movimenti saltate perché noi siamo di quel movimento, di quell'associazione. E' proprio necessario per la salvezza. io, allora potrei ricordare il proverbo che mi diceva, mia nonna, per un granello di salo, mandi salo, mandi ad amaro la monestra. Cioè, avevi fatto tanto del bene o deve raggiungere l'abbaccia di me? Sì, sarei un po'. Cioè, essere anche un po' liberi dal dire, dal far muotare, dal gonfiarsi, dal vantarsi. Dove, sregolato. Tante volte capita, tutti i mattini, di fare tanto del bene, ma è un mondo sregolato. Siamo geni lo sessi, però è un mondo esagerato. Manca l'attenzione a un particolare. A un particolare per quella persona. Ricordo una volta, faccio un piccolissimo intervento in ospedale dove ti stavi lavorato due giorni. In camera dove ero ricoverato. Avevano lavato quel tema, hanno messo la sedia, hanno lasciato su un vento. Io però non mi potevo alzare per toglierlo. Tanto persone che entravano, andavano da parlare, salutare, portavano dolcetti e cose fanno. Nessuno che vedeva quella sedia. Entra una sola, la monta e ci fa stasera qua. La toglie. L'attenzione al particolare. L'attenzione al particolare per quella persona. Forse delle volte esagerare, vogliamo fare compagnia alle persone. Quella persona in quel momento non ha bisogno che questa moglie in mezz'ora, non ha bisogno che questa moglie in mezz'ora, non ha bisogno che questa moglie in mezz'ora. Non ha bisogno che questa moglie in mezz'ora. forse è più delicato abbiamo fatto delle cose quando vuole prenda amore quando è troppo 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 zero la carità è attenta è delicata si accoglie quello che una persona usa in quel momento senza strafare senza esagerare non c'è anche il proprio vantaggio l'ho fatto perché mi volevo sentire la coscienza apposta allora l'ho fatto per te l'ho fatto per noi l'ho fatto perché mi sentivo di farla allora l'ho fatto perché ti senti di farla non hai vantato solo a tantuno farla quella cosa a quel momento per il bene più grande della comunità l'amore non si esaspera l'amore l'amore che vuole chiedere tutto c'è un po' di intenzione in comunità per chiedere tutto magari subito magari subito potreste bisogna anche saper far decattare le cose tornare in un altro momento sul discorso magari a quattro occhi non davanti a tutti non ci deve essere esasperazione l'amore la carità non esaspera non tiene conto del male di certo che dipende non è che agli occhi fiumi tipo certo se una persona è maleducata se una persona si comporta male è inopportuna lo vede chiaramente ma non la carità non si ferma davanti all'offesa di città perché la carità viene da Dio e la carità di Dio va sempre avanti si difende sempre non si ferma non si è fermata ma pure davanti al rinagamento di Pietro al tratamento di Giuda all'umidiazione di città davanti la carità di Cristo perseguirà la carità perseguirà non si rallegra dell'ingiustizia ma si compiace della verità è l'amore che è allenato a cercare sempre la verità anche quando la verità dovesse essere scopola per riconoscere che ho sbagliato l'uomo però è la verità anche se la verità dovesse essere escopola per l'uomo non è conveniente per l'uomo ma è la verità lo riconosco lo abbiamo sbagliato potevano fare potevano fare diversamente potevano fare meglio cioè imprimato il punto è sempre della verità senza scendere a compromessi con le mezze verità quelle che una volta quando si confessavano le dichiette dicevano le bugie e bianche senza troppo conseguenze sull'altro ma non è vedere la verità ora il Paolo dice a caricare tutto crede tutto supporta tutto spegna Paolo adesso fa proprio una morbida perché si sente coinvolto totalmente da questa esperienza della carità lui ne ha fatto le esperienze per sollevarla allora usa per quattro volte tutto 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 perché oramai è coinvolto completamente non c'è nulla di sé che ne è coinvolto è coinvolto il cuore la mente l'intelligenza i sentimenti la volontà il corpo tutto completamente coinvolto oramai lui è pienamente identificando con Gesù Cristo alzio e diceva alzio Cristo vive in lui e allora si apre a tutto tutto a tua sfida è creativo tutto posso di colui che gli dà forza Santa Teresa d'Avola diceva io da sola dura Teresa con Dio in tutto questa totalità che quando l'abbiamo sperimentata davvero ci ha fatto sperimentare qualcosa di unico qualcosa di straordinario ci sentiamo come sparsi e poi c'è non immaginavo di essere capace di arrivare al dato ma non sono io che l'ho fatto e Cristo vivo in me che ha realizzato tutto questo allora si apre orizzonti nuovi che suscitano stupore meraviglia gioia e in ultima analisi la ruota di tutto per la fine di tutto e tra questo tipo di amore avendo incontrato Gesù risolto essendo si fatto impregnare dall'amore di Cristo entrando in questa prospettiva di totalità il fine ultimo qual è la lode di Dio benedetto sia Dio padre del Signore nostro Gesù Cristo e allora si è inseriti in questo portice di totalità di eternità di vita la Gere di oggi si concludeva molte altre cose dovevano scrivere dice Giovanni ma adesso sono state scritte perché voi crediate che Gesù Cristo è il figlio di Dio e perché credendo in Lui possiate avvenire la vita ecco questa è la vita della vita eterna la vita del più esigliato allora vivere così è una vita realmente da risolvere tutto questo ci dice un processo di con emozione e con pazienza cerchiamo con l'amore di Dio secondo la vita dello Spirito Santo di procredire per arrivare a questa pienezza di vita di Dio di Dio l'amore di Dio di Dio di Dio Grazie.